Mario, che impressione ti fa questa storia d'amore? Dovremmo, come dire, lasciarla perdere oppure è un ministro che va anche nelle trasmissioni, va sui social, sta raccontando lui stesso questo suo passaggio? No, è un fatto pubblico, è indubbiamente un fatto pubblico e la prima cosa che mi viene in mente è non si fa, cioè quella foto veramente non si mette, parto da un principio dell'etica pubblica che è non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, fosse stato fatto a me sarei infuriato, davvero infuriato, almeno l'intimità teniamola protetta in qualche modo, soprattutto se sei un'istituzione, ora mi si dirà, l'immagine l'ha messa da Isoardi, ma non posso immaginare che non ci sia stato almeno un silenzio assenso da parte del ministro dell'interno o comunque mi sarei aspettato una sfuriata e una richiesta di cancellazione di una foto così intima che possiamo raccontare come una foto in cui il ministro dorme, ma è inutile che ci giriamo intorno, è stata definita sui social una classica foto after sex, come si chiamano, questo tipo di scatti. Io che sono stato nella mia vita, a me è capitato di fare il deputato, amico di ministri dell'interno che magari sono diventati anche presidenti della Repubblica con vicende sentimentali e coniugali molto tormentate. Ecco, immaginare il salto che abbiamo proposto dalla riservatezza di quei ministri dell'interno, di quei presidenti della Repubblica, a questa vicenda così spiattellata in maniera, posso usare l'aggettivo, volgare, impasto ai social, mi fa rattristare non per la cosa in sé, per la vicenda del fatto che poi Salvini mangia i raglioli o la pizza da solo, ma per la decadenza oggettiva delle nostre istituzioni. Zecchi, Zecchi, però lo stesso Salvini pare un po' giocarci, tra virgolette, perché poi mette lui stesso le foto di lui a cena da solo, insomma torna sull'argomento. La prima cosa da dire è che la foto non l'ha fatta Salvini, non l'ha messa Salvini e appunto eventualmente si può solo ipotizzare che lui sia stato d'accordo, ma ipotizzare. E quindi questo è il primo punto. La signora Isoardi è una donna d'immagine, di spettacolo e quindi usa i social per il suo lavoro, c'è poco da fare. Possiamo dire professore che non si fa spettacolo sulle vicende così intime, con questo possiamo essere d'accordo. Però effettivamente Mario, scusa, Mario a me della Isoardi mi interessa molto poco perché mi interessa un ministro dell'interno perché è il mio ministro dell'interno. Io sono invece, insomma, se non si fa le cose con ordine, si accavallano le cose. Quindi primo, la foto ha fatto a lei. Lui è stato molto abile nel passato a capire l'importanza, è un ministro giovane, io l'ho conosciuto quando facevo, io ero assessore a Milano, lui era consigliere comunale, lui era molto bravo a rapportarsi con la gente proprio attraverso i sistemi generalmente chiamati. E lui sta sfruttando anche questa cosa o l'ha subita? No, secondo me, al di là di un giudizio morale, perché poi ognuno può pensare che l'intimità va protetta in un modo piuttosto che un altro, d'altra parte ne stiamo parlando. Ne stiamo parlando. Ecco, il discorso è che, a mio parere, Lisoardi ha fatto un gran regalo in realtà a Salvini, perché Salvini ci appare sempre, adesso anche in quel pezzo che avete mandato con Barbara, appare sempre questo gladiatore, questo uomo così. Ecco, domanda breve per tutte e due. È lì, è lì appare, faccio cone. A casa è più simpatico o meno? Non lo so, io non è che abbia frequentazione adesso con... No, no, non lui, non lui, Zecchi, dico, in questa vicenda ne esce rafforzato... Ma io credo che, come sempre, è un bravo politico riesce a fare, è quando divide l'opinione pubblica, cioè quando non si nasconde dietro un dito, anche dietro il dito dell'ipocrisia. A Di Nolfi ne esce rafforzato o indebolito, per esempio, quando dovrà andare a parlare, che ne so, con la Merkel? Ha ragione Zecchi, il professore quando dice che ne esce è rafforzato. È il metodo con cui scegli di rafforzarti che mi atterrisce. Perché se il metodo è mettere in piazza qualsiasi cosa, se ciò porta buono alla tua immagine pubblica, perché così non sembri solo il gladiatore, ma sei anche il micione che subisce l'attacco da parte della femmina. Vi ringrazio tutti e due perché ho chiuso... È pericolosissimo e fastidiosissimo. Grazie a Mario A Di Nolfi, direttore. Grazie a Stefano Zecchi. Mi fa piacere ricordare che è appena uscito proprio ieri l'ultimo romanzo, L'amore nel fuoco della guerra. L'amore, ma in questo caso... Ebbè, oggi l'amore nel fuoco della guerra è questo qui. Speriamo di no, speriamo di no. Grazie a Di Nolfi. Non è solo social, non è amore.